C'era una volta un figlio che terminate le scuole, suo padre gli disse Figliolo, ora che hai finito i tuoi studi, sei nell'età giusta per metterti a viaggiare. Ti darò un bastimento perché tu cominci a caricare, scaricare, a vendere e a comprare perché voglio che tu impari presto a guadagnare. Così gli diede 7.000 scudi per comprare mercanzia e il figlio si mise in viaggio. Viaggiava già da un po' e non aveva ancora comprato niente quando arrivò a un porto e vide un cataletto in riva al mare e tutti quelli che passavano ci mettevano un soldo dell'emosina e domandò Scusate, ma perché tenete qua questo morto? I morti vogliono essere seppelliti. Ah no, dicono che sia uno morto carico di debiti. E qui si usa così, che se uno non ha pagato i suoi debiti non lo si seppellisce. E finché a questo qui non gli avranno pagato i debiti con le lemosine non lo porteremo a seppellire. Allora fate la grida che tutti quelli che avanzano qualcosa da lui vengano da me a farsi pagare e portatelo subito a seppellire. Fecero la grida e lui pagò tutti i debiti e restò senza un quattrino. Tornò a casa. Beh, dunque figliolo, che novità, cosa vuol dire che sei tornato così presto? Allora dunque padre, come sapete sono andato per mare e ad un certo punto ho incontrato i corsari brutti, brutti, cattivi e tecnicamente mi hanno svaliggiato di tutto il capitale. Momento di silenzio. Fa niente figlio, sette mila scudi, cosa vuoi che sia, sette mila scudi. Certo, te ne darò altri, te ne darò altri, ma tu non stare più ad andare da quelle parti, mi raccomando. E gli diede altri sette mila scudi. Sì, messer padre, state sicuro che cambierò strada. E ripartì. In mezzo al mare vide un bastimento turco. Il giovane si disse, qui è meglio fare gli amici, andare noi a fargli visita e invitarli a fare altrettanto. Sali a bordo dai turchi e chiese, donde venite? Noi altri veniamo dal Levante. Cosa trasportate? Che carico avete? Di niente, soltanto di una bella giovane. E a chi la portate questa giovane? A chi vuole comprarla, noi altri la vendiamo. È la figlia del nostro sultano e noi altri l'abbiamo rubata da tanto bella che è. E fatemela un po' vedere. E quando l'ebbe vista, chiese, quanto ne volete? Noi altri ne vogliamo sette mila scudi. Così il giovane chiede a quei corsari tutti i soldi che gli aveva dato suo padre e si portò la giovane sul suo bastimento. La fece battezzare e la sposò. E tornò a casa da suo padre. Benvenuto. Figlio lo bello. E lui è mio figlio, sì. Ascolta Ciccio, su avanti, parliamo di affari. E che mercanzia preziosa avete fatto? Padre, vi porto un bel gioiello. Oh sì. Lo porto per l'orgoglio che ne avrete. Beh, certo. Pensate, padre, che non mi costa né un porto né un castello. Ma vi assicuro, padre, mai più bella donna visto avete. Una donna? Padre, tenetevi forte. Sì, sì, sono calmo. Niente popo di meno che, padre, la figlia del sultan di Turchia. Io vi porto come prima mercanzia. La figlia del sultan di Turchia ti ho dato sette mila scude. Il cuore, prendetelo, anzi lo prendo io. E il padre li manvenò tutti e due e li cacciò fuori di casa. Quei mischini non sapevano come trovare da mangiare. Come faremo? Si chiedeva lui. Io non ho né arte né parte. Ma lei, gli disse, sta a sentire. Io so fare delle belle pitture. Io le farò e tu andrai a venderle. Ma ricordati che non devi dire a nessuno che le faccio io. Intanto in Turchia il sultano aveva mandato fuori tanti bastimenti in cerca di sua figlia. E uno di questi bastimenti, per combinazione, arrivò nel paese dove i due sposi si trovavano. C'essero a terra molti uomini e quel giovane, vedendo tanta gente, disse alla sposa Fa molte pitture, oggi le venderemo. Lei le fece e gli disse Tieni, ma a meno di venti scudi l'una non starle a vendere. Lui le portò in piazza, venire i turchi, diedero un'occhiata alle pitture e dissero fra loro Ma queste sono della figlia del sultano. Non c'era che lei che sapeva farne uguali. Si fanno avanti e gli chiedono a quanto le vende. Le vendo care, non le do a meno di venti scudi. Bene, le compriamo, ma ne vogliamo delle altre. E lui Venite a casa da mia moglie, è lei che le fa. I turchi andarono e videro la figlia del sultano. La presero, la legarono e se la portarono in Turchia. Lo sposo restò lì disperato, senza moglie, senza mestiere e senza un soldo. Andava ogni giorno alla marina a vedere se c'era un bastimento che volesse prenderlo a bordo. Ma non ne trovava mai. Un giorno trova un vecchio su una battellina che pescava e gli fa Buon vecchio, quanto meglio di me voi state. Ah, perché caro figlio? Disse il vecchio. Ah, buon vecchio, come vorrei venire a pescare con voi. Ah, se vuoi venire con me? Sali a bordo. Tu con la canna e io con la battella. E forse ci pescheremo una sardella. Il giovane salì e fecero un patto che avrebbero diviso sempre tutto nella vita. Il male e il bene. E per incominciare il vecchio divise con lui la sua cena. Dopo mangiato si misero a dormire. Intanto, tutta un tratto, si levò una tempesta. Il vento prese la nave. La portò via sulle onde e finì per sbatterla in Turchia. I turchi, vedendo capitare questa barca, la presero. Fecero schiavi i due pescatori e li portarono davanti al sultano. Il sultano li mandò in giardino. Il vecchio a fare l'ortolano. E il giovane a tirar su i fiori. Nel giardino del sultano i due schiavi stavano proprio bene. Avevano fatto amicizia con gli altri giardinieri. Il vecchio fabbricava chitarre, violini, flauti, clarinetti, ottavini. E il giovane suonava tutti gli strumenti e cantava canzoni. La figlia del sultano era chiusa per castigo in una torre alta, alta con le sue damigelle. E a sentir suonare e cantare così bene, pensava al suo sposo lontano. Solo Bella Fronte, perché lei lo chiamava Bella Fronte. Sapeva suonare tutti gli strumenti. Ma ad ogni strumento era più dolce la sua voce. Chi è che suona e che canta nel giardino? E guardando attraverso le persiane, perché non le poteva aprire, riconobbe nel giovane che suonava in giardino il suo sposo. Ogni giorno le damigelle andavano dai giardinieri a farsi riempire una gran cesta di fiori. E la figlia del sultano disse loro, mettete quel giovane nella cesta di fiori, copritelo di fiori e portatelo qui. Tra damigelle e giardinieri, tanto per ridere, lo fecero entrare nella cesta. E le damigelle lo portarono su. Quando fu nella torre, sbucò tra i fiori e si trovò di fronte sua moglie. S'abbracciarono, si baciarono, si raccontarono tutto. E subito studiarono il modo di scappare. Fecero caricare un gran bastimento di perle, pietre preziose, gioielli. E fecero calare nella stiva prima Bella Fronte, poi la figlia del sultano. Poi tutte le damigelle, una per una. E il bastimento salpò. Mentre erano già a largo, Bella Fronte si ricordò del vecchio e disse alla sposa. Mia cara, forse perderò la vita, ma devo tornare indietro. Non posso tradire la parola data. Ho fatto un patto con quel vecchio, che avremmo diviso sempre il male e il bene. Tornarono indietro, e il vecchio era sulla spiaggia ad aspettarli. Lo fecero salire a bordo e ripresero il largo. Buon vecchio, gli disse Bella Fronte. Facciamo le parti. Di tutte queste ricchezze ne viene metà a te e metà a me. E anche di tua moglie, disse il vecchio. Ne viene metà a te e metà a me. Allora gli disse il giovane. Buon vecchio, io ti devo molto. Lascerò a te tutte le ricchezze di questa nave. Ma mia moglie lasciala tutta per me. E il vecchio. Essendo un giovane generoso, sappi che io sono l'anima di quel morto che tu hai fatto seppellire. Se tu hai avuto tutta questa fortuna, è per quella buona azione che tu hai compiuto. Così gli diede la benedizione e sparì. Il bastimento arrivò al paese con gran colpi di cannone. Arrivava Bella Fronte con la moglie, il più ricco signore degli ondo. Sulla riva c'era suo padre, che voleva riabbracciarlo. E vissero in pace, inceri. E vissero, e vissero in pace. Speravo aggiustarmi la mascella. Comunque, come vi dicevo, vissero in pace e in carità. E a me, però, mai nessuno niente mi dà. A stretta la foglia, larga, alla via. A voi dite la vostra, che gli ha già detto la mia.